Sì, al di là del gioco che abbiamo dimostrato nelle ultime partite che abbiamo fatto, secondo me il Chievo è una squadra ostica, una squadra che non ti fa giocare. Ma secondo me, al di là che non abbiamo trovato il gioco, penso che soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione. Al di là che non abbiamo giocato bene, ma poi loro hanno trovato il rigore e poi è difficile giocare contro una squadra dove sono tutti dietro. Sì, era fondamentale perché potevamo uscire da questa situazione, ma io penso che abbiamo perso un'opportunità, ma non abbiamo perso la salvezza perché ancora siamo tutti là. Penso che un po' sì, perché noi quando giochiamo al Massimino io sempre dico che sono la spinta in più, ma è vero che abbiamo giocato tante volte contro loro e non abbiamo trovato difficoltà in questo senso, ma sicuramente sarà una forza in più per loro, ma noi penso che non ci farà condizionare.